Il mio figlio mi ha scritto, avendo fatto io prima l'editorio, avendo quindi fatto una marea di debiti, mi ha detto no, va, aiuta, ci penso io, ci penso, allora, dicevo, questo libro che è uscito nel 79, la storia di una bambina, la storia di Maria, non lo sappiamo, ne parliamo adesso, ve lo vorrei introdurre con un fatto musicale così noi ci facciamo l'ultima sistemazione, Dario Pierini, che è il primo dei grandi musicisti che avremo amici, nel frattempo giustarò questo microfono con Federico, mi fa piacere che ci siano alcune insegnanti che io amo, adoro, che non hanno se ne vanno in pensione, forse per questo non dovrebbero mai andare in pensione alle persone, io mi ricordo che io lo sanno, se cominciò a fermare, quando sono in pensione, potresti ne vanno se uno scrittore o un generalista in pensione, come, perché, non è, non è, allora se ne vengo, questa era la cosa che mi metteva molto a disagio su schiare, e in questi giorni avevo visto sul blog una frase bellissima che mi sta facendo fidanzare con me in Italia, solo i coraggiosi amano, tutto il resto è coppia, Francesca mi ha scritto stamattina, dice io sono donna, io sono coraggiosa, che vogliamo fare? Sotto c'è il detto Barbara Alberti, questo è uno degli appunti che mi ha detto tantissimi, perché con tutta la parola, non mi piacciono i giovani, i vecchi, i lunghi, devo chiamare.